Per chi ci segue da vent'anni sa che il mio lavoro è sempre stato inteso E' concepito un pochino in maniera particolare, forse diversa dai canoni tradizionali Succede che una volta alla settimana noi siamo in quella di San Giuliano Presso la sede di Bindi per registrare Car Wars con l'Amico Valli Succede che una mattina passa un signore ancora tutto intabarrato Perché non faceva ancora il caldo che c'è adesso Nel momento in cui stiamo registrando ancora a 30 gradi Era tutto intabarrato, si toglie il casco e dice Bob ti ricordi, non so se Bob o Fran comunque va bene lo stesso Ti ricordi, ci siamo visti una volta a griglia di partenza Forse non ho ancora griglia di partenza Sono venuto a trovarti in studio e ha detto Guarda, in questo momento sono incasinato, dimmi dove sei Dove ci troviamo che vengo a trovarti Succede che poi è ripassato lui dopo qualche mese a trovarmi sempre da Bindi Dice, senti ti ricordi, fai un salto con me in officina a vedere il mio mondo qual è Gli ha detto, Ciccio ti seguo, dimmi dove sei A 200 metri siamo arrivati Mi hai aperto le porte della tua officina Ma già fuori avevo capito che Ciccio ha tante cose da raccontarci Ha una storia, mi ha detto Ah sai sono amico di Virginia o di Casoli Dicendo, ho detto Ciccio già capito Dobbiamo fare qualcosa E mi dice guarda che io parlare però Non è il mio lavoro, io lavoro e traffico sulle moto Mi sporco le mani di grasso Ho il mio camper mega lì Ho tutte le mie moto mezze smontate, mezze da rimontare Non ci interessa che tu sia un oratore fantastico Come noi, abbiamo capito che qua Impareremo tantissime cose Per cui adesso il compito più brutto, più difficile che hai È che ci devi far capire Ci devi far capire cosa vuol dire Lavorare su una moto Lavorarci con la passione di chi si dedica da una vita a questa cosa Che poi sia dedicata alle corse Al motocross come fatto a figlia Allo scooter che usiamo per andare a lavorare Poco ci importa Però hai voglia di condurci Ciccio La moto è una malattia abbastanza grave Nel senso che è bellissima Fa star bene, fa star male E compagni, infatti Se mi dai la mano capisci subito Poi capire che buco che c'è Sono stato in coma un po' Però è così La storia della vita mi ha portato a lavorare sulle moto da giovanissimo Da ragazzino Ho imparato Ti ho imparato poco Mi sono andato da fare tante È una roba che mi piace tantissimo Cerco di affrontare l'approccio A una motocicletta Cercando di capire come l'ha pensata Quello che l'ha costruita Quello che l'ha progettata Perché è importante secondo me Capire come si è messo nella testa Di fare quell'aria Quella cassa da filtro Quello ginocchio della sospensione E mano a mano Sempre nel tempo Cerco sempre di capire questa storia qua Lo smetti mai di imparare comunque No, ma guai Sbagliato non imparare Si impara anche dai pirna Infatti spero Di poter imparare da te Perché tu sei Mi hai detto Quando ci siamo trovati al bar Uno non è neanche tanto esperto di moto No, assolutamente È proprio da queste persone che si impara di più Perché ogni persona A cui spieghi una cosa La interpreta con la sua coccia E quando l'ha interpretata Te la riporta In un altro modo magari E magari quella è una strada migliore Di quella che hai fatto tu fino adesso Quindi mai Io mi piace un sacco Parlare Ok, ti chiedo Perché ci esco a corso E poi il primo tema Che voglio affrontare Poi tu hai qui Una moto particolare Per cui un bel tema Sono queste special Io ti giuro Ciccio Vedo in giro delle moto Che dici Ma cazzo Ma questo qui Come l'ha messo insieme Cioè Già a vederla a occhio Anche se giustamente Come hai detto Io non capisco niente Però a occhio Dici Ma come fa Andare Come fa Ormai però Sai Special Raccata su Tutto quello che trovano Che come filosofia Ci può anche andare bene Che raccati un rottame Trovi e ti fai una motorella Però io vedo delle robe Che mi lasciano perplesso Per cui chiedo a te Come capire Come fare A prevenire Poi dei problemi Che quando poi c'è la casa Ci devi andare in giro Devi frenare Devi girare Diventa difficile Io credo Il mio approccio La special È un approccio Che parte Mille anni fa Quando ero ragazzino Già Mettevamo le forcere ceriani Gli ammortizzatori ceriani Cambiavamo gli scarichi Modificiamo i motorini Mettevamo magari Spostavamo la posizione Gli ammortizzatori Per fargli fare Una corsa Una corsa diversa Piuttosto che farli lavorare In un altro modo Cambiamo i parafanghi Quindi ho già 12-13 anni Però lì lo facevi Senza cognizione Anche te Andare alla cazzo Come si Esattamente Poi per fortuna Sono andato a scuola E a scuola Quando fai litis Fai meccanica Sembra un caso In realtà È fisica applicata E la motocicletta Come tutta La meccanica Tutto il mondo Anche il nostro corpo È fatto di fisica Applicata Per l'appunto Quindi io Quando approccio Alla trasformazione Di una motocicletta Di solito Prendo una motocicletta Vecchia Quindi vecchia Vuol dire Con una storia Un progetto Una realizzazione Vecchia Con il materiale Che c'era allora Possono avere 30 anni 20 anni 25 50 Quello che Ne hanno fatto Di tutti i tipi Qual è l'evoluzione Che ha avuto La motocicletta Negli anni Forse te lo accennavo Ancora al bar L'altra volta La posizione di guida La posizione di guida È fondamentale Se noi Avessimo la possibilità Di vedere una foto Di Agostini Di mille anni fa Quella là Quella là Certo che ce l'abbiamo Andiamo a pescarla Perché qui l'ottofficino E' proprio Agostini Su una M Che cosa Parloci di questa posizione Lui è seduto Sugli ammortizzatori E là in fondo E là in fondo Sulla ruota dietro Sì Oggi non ce l'abbiamo Una foto Perché non hanno ancora Fatti questi Questi calendari Con dentro le foto Io non ce l'ho Se noi Guardassimo Attentamente Una foto Di Valentino Lossi Sulla sua motocicletta Lui è seduto Sul motore Praticamente sul pignone Sul perno del forcellone Agostini Era più indietro Di 30 centimetri 40 centimetri Si è spostato di mezzo metro Il posto Il punto dove si è Perché Tant'è che Ai miei anni Quando Ai miei anni Io ho 59 anni E si vedono tutti Pensavo qualcosa in più Scusa Ma bene Però Fa media con la testa E io Ho la testa di 16 16 16 Detto questo Noi cambiamo Due o tre gomme dietro E una davanti Quindi il carico Era molto spostato dietro Rispetto a come sono oggi Tant'è che oggi Le gomme ne fai pari Le cambi tutte e due insieme È difficile Trovare una ruota anteriore Molto meno consumata Della posteriore Segno che Anche se io peso le moto Adesso sono 50-50 48-50 Come percentuale Quindi si è spostato Tanto il pilota in avanti E l'hanno alzato da terra Questo comporta Due cose Intanto Hai più Coscienza Della mantreno Hai più Una sensibilità Sulla ventrena Ce l'hai più in mano E poi Hai una leva Più centrale Più vicina al baricentro La moto non è niente Senza il pilota sopra Quello che muove È come il computer Se gli dai Il computer Getto il input Sbagliato Non fa l'operazione Ok E la moto quindi non gira Se non gli dà il senso Ok ma cosa ritroviamo Tu sei partito ad Agostini Giustamente Per farci capire Come è cambiato Ma su Perché me lo rapporti Alle special Perché io Adesso in questo caso Lui non l'ha voluto Però in quella che c'è fuori Gli ho accorciato Il serbatoio Di 7 cm Quindi A differenza Dei miei colleghi Ma ce l'hai Possiamo vedere Poi torniamo su questa Tanto qui Bianchi Filippo e Pasquale Ci seguono È così È così L'officiale del ciccio È così Tra l'altro complimenti Per il tuo camper Che è fantastico Ma cagare È quello di Benten È bellissimo Dov'è questa? Sì Questa è quella Con la quale sei caduto Davanti a Bindi Ma non sei venuto A trovarmi stamattina Va bene Questo serbatoio qua È tanto così Più corto Di quello Che c'è su quella là Anche se è lo stesso Lo stesso modello Il serbatoio Questo mi ha consentito Di portare avanti Il pilota Quella misura Di centimetri Di La possibilità Di spostare avanti Il pilota Che poi Favorito dal manubrio Basso e largo Gli dà la possibilità Di guidare Molto Ok Perché quindi Sarebbe stato Qua più o meno Sì Stando un po' più avanti E poi Quando guidi Tu ti muovi avanti e indietro Quindi quando esci dalla curva Che vedi l'uscita Ti tiri in avanti Spingi sulle pedane Dai trazione E chiudi la curva Ok Per cui una special Non solo bella da vedere No A me è una special Bella da vedere Non me ne frega niente Perché se non si guida Non vale niente Non serve a nulla Non è una bella moto Io quando finisco Questi K75 Questi K100 Che non li ho tagliato Il serbatoio Mi viene il mal di stomaco Perché K75 e K100 Queste mi chiedono E quindi questo Però ecco E comunque una buona base di partenza Motore e anche telaio Sono motociclette affidabili La storia di questa qui È semplice È una moto che RT Quella con tutta la carnatura Grossa grossa Non andava più Pompa della benzina La ruota Non partiva mai Così Io gli ho smontato Tutto il corpo farfallato E revisionato Con tutti gli orini nuovi Tutto pulito Tirato via tutte le morchie Lavato Tutto Sistemato i manicotti Per non fare aspirare ali Di aspirazione Catena della distribuzione nuova Patino nuovo Della catena di distribuzione Revisionato La pompa dell'olio La moto Funziona Quello che mi piace Del K75 È il suono Perché è tre cilindri Come tutti i tre cilindri O i sei Hanno un suono Particolare Alimentatore 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 mi piace tanto il tracilindri sta tornando alla grandissima, Yamaha li montano anche sulle auto la Yaris credo, no forse non la Yaris, poi l'altra cosa sulla quale lavoro oltre la posizione di guida sono le sospensioni e i freni mediamente perché questa qui è una moto che è stata progettata nell'84 e frenava con i freni e sospensionava con le sospensioni di allora, quindi le pinze della Brembo c'erano le serie oro però erano dedicate a moto super sportive, il target loro non era quello di fare una super sportiva, usavano le pinze a due pistoncini, gli ammortizzatori e la forcella erano quello che erano di là in officina c'è una TDM 850 sbiellata, allora mi piaceva tanto l'avantreno e gli ho tolto l'avantreno però lei l'ho messa di qua mi piace i pasticci, è bello, bello, bello che trafichi e smonti e poi questa qui è una forcella regolabile, a differenza della BMW, è da 43 invece 41, quindi è più rigida e poi mi piacerebbe farti capire anche o spiegarti altre cose fammelo capire, fammelo capire, provaci va beh, adesso ritorniamo alla forcella, questa qui ha la forcella da 43 invece che da 41 e fischia è registrabile in compressione e in estensione, compressione perché è il precarico della molla e poi estensione con il freno idraulico del ritorno ha un avantreno, cioè ha due pinze a quattro pistoncini cochico, tochico ha quattro pistoncini come le Brembo dedicate alle super sportive negli anni in cui veniva prodotta questa motocicletta frena da paura, si guida che è divertentissima sembra fino anche più leggera anche se io cado da fermo ma quello perché sono umano ma quella è fisica, perché è stato fisico, se è 1,35 su una moto da 1,50 non tocca è così, non tocchi, ci vuole marciate va beh, minchiate, quindi detto questo questo è il mio modo di... ok, io dentro ho visto, eravamo vicino a quella moto color militare ti ho visto, ha preso un colpo d'aria davanti per cui dopo la pubblicità, se vuoi, ti ritrovo lì perché c'è un bel argomento poi devi cercare di farmi capire delle cose, hai detto, però partiamo da là, ok? ho visto che non passa tanti camera, c'è la pubblicità guarda in camera, guarda lì, c'è la pubblicità allora questa qui è una motocicletta trasformata un paio d'anni fa l'hai fatta tu? sì, l'abbiamo fatta in questo caso è K75, anche questa, tre cilindri una moto con meno chilometri di quella dell'altra quella che ho fatto fuori questa qui è stata una storia che è nata insieme tra me e Daniele, questo amico motociclista che si voleva costruire questo genere di moto come vedete il serbatoio è più lungo perché lui non l'ha voluto accorciare anche perché voleva la moto in fretta e questa qui cosa gli ho fatto? siccome ho un po' anche l'idea di cercare di essere sempre più street legal possibile perché quindi le mie moto hanno i 4 moto che faccio io hanno i catarin frangenti sono mediamente con la marmitta omologata sì, perché si vede in un giro delle robe che dicono, ma quello come fa a circolare? esatto, esatto poi altra cosa per me è una moto senza parafanghi è un insulto alla legalità all'ingegnere che l'ha progettato al design che l'ha disegnato e a quello che gli ha montato cioè il parafanghi ci va perché allora se tu togli i parafanghi togli la scatola filtro e non gli metti più niente che sostituisca questa roba qua per quanto diversa vuol dire che fai una motocicletta che quando viene a piovere la pianti lì hai dei problemi, non puoi girare prendi l'aperitivo prendi un sicario il taxi per andare a casa e un sicario ti va a prendere la moto secondo me invece la motocicletta è una storia che va usata usata che possa essere utile e possibilmente anche biposto eventualmente è che sia una cosa che se viene a piovere te puoi tornare a casa senza problemi e se ti fermano dovresti poter andare a casa sarebbe meglio che fassi la sequestra questa sera qui lui secondo me non è andato a casa alla fine no, lui è andato in ospedale però non lui, c'è andato Claudio sì Claudio, un suo amico della Croce Rossa anche lui che hanno fatto un incidente in Francia un tornante, non si sono capiti e si sono schiacciati ha fatto un patatrack per fortuna senza conseguenze gravi no, si è rotto un braccio e adesso è già in Italia e in via di guarigione su questa moto abbiamo cambiato ah ecco, perché ero arrivato allo street legal? perché c'è stato un periodo che mi piaceva lavorare sulle marmitte originali perché c'è l'omologazione e poi il vigile se tu riesci a farla che rende un po' meglio che fa un bel rumore ma non come quella BMW lì perché quello è un sinerizzatore da gran premio che arriva dall'SC Project allora le taglio e le modifico quindi faccio dei giri diversi del fumo adesso non ho le chiavi se no potrei fartela sentire non è fastidiosa però è un po' più corta viene in su ci ho lavorato sopra mi sono divertito come un bambino basta, io sono contento perché far rumore è giusto è, tra virgolette, più o meno in regola lui è contento chi sta meglio di me? certo, perfetto e quindi questo è l'idea adesso qui quanto lavoro hai da fare? qui la storia è pesante perché adesso vorrei che tu insieme a me guardassi come farei io per imparare cosa so per imparare tu come si guarda una motocicletta quando ti arriva che è incidentata intanto la forcella lo vede anche lui che non è dritta esatto quindi la forcella è storta è inutile che lo diciamo poi il serbatoio è ammaccato quando si ammacca il serbatoio mediamente c'è qualche casino al fermasterzo quindi noi andiamo a cercare il fermasterzo sulla forcella della forcella sul canotto e se vieni qua a vederlo questo qui è rotto ok infatti adesso qua sarà dura farlo girare questo qui non si ferma vedi che lui avrebbe dovuto fermarsi qui vedi Franco che avrebbe dovuto fermarsi invece è andato di là in questo caso è andato di qua perché l'ammaccatura sul serbatoio è di qua e forse di qua adesso lo puoi vedere meglio vedi che è arrivato oltre il fermasterzo rispetto al funghetto che c'è sulla piastra è andato oltre tant'è che l'ha strappato il fermasterzo esatto e questo pezzo qua che si vede lesionato si che manca lui era 7-8 mm in più di così è una bella legna e l'ha strappato tra l'altro mi sembra di ricordare che questi qui li facessero con un buco in mezzo per avere la possibilità che si rompono senza strappare il telaio quindi dice cedendo comunque salvaguardato cazzo sono gli hanno fatto un innesto io me la ricordavo sta cosa qua cioè ha due motivi lui ha un foro in mezzo passante che gli dà la possibilità di mettergli due rivetti se deve avere meno sterzo perché quello lì è un quadrotto con un foro passante se te gli metti due capocchie tonde o gli metti un dado e un bullone da una parte all'altra la forcella chiude prima per l'RT che hanno bisogno di meno sterzo perché c'è la carenatura se no al manubrio gli fanno fanno quei lavori lì in più però ha un altro vantaggio che lui strappa lui un pezzo di lui ma non va a rovinare la parte tonda del canotto che non è spessissima di sotto questa questa qui dove c'è la sede del cuscinetto questa è una sede che mi sono ok per cui a questo punto a questo punto qua bisogna smontarla smontarla dobbiamo vedere se è soprattutto se è dritto il telaio e vedere quelli che sono i danni che riusciamo a vedere come si fa a vedere se è dritto il telaio? quello è una cosa un po' più complicata io ho un attrezzo però è un lavoro un po' più lungo facciamo la prossima volta quello che volevo dire volevo dire hai l'attrezzo che ti fa vedere se è storto o hai anche un attrezzo che lo tira dritto? quello ci vuole un telaista per adrizzarlo perché hanno delle maschere delle strutture qualche telaio l'abbiamo drizzato ma l'ho addrizzato ma è roba semplice non sono storture non sono piegati da fare paura sono una cosa ragionevole e soprattutto più facile sistemarlo nella parte dietro il telaglietto dietro se prende una botta quello mi sento più confidente davanti davanti abbiamo fatto un aerone ma erano io il mio nello il mio maestro e con lui si facevano senti a proposito di maestri i ragazzi giovani che tipo di approccio hanno per questo tipo di lavori? tutto perché non hai qua un apprendista di 20-22 anni? perché perché non avrei la possibilità di tenerlo in regola economicamente perché è il primo ma ci sarebbero ragazzi che qualcuno viene però dovresti fare una selezione molto di tanta gente per arrivare a trovare uno che si appassiona perché questa non è la meccanica non è la moglie del meccanico è una storia vera finita cioè una scienza precisa la cosa che mi fa male è vedere ogni tanto andare alle manifestazioni e vedere non so una pompa a freno che montano tutti e dire cazzo carina questa pompa a freno bella dovrei presa è cinese che diametro è? come boh sei scemo come non sai che diametro è la pompa no tutti tanto la montano per cui va bene e invece questa cosa qua è fondamentale il diametro della pompa del freno è quello che ti dà la frenata negli anni adesso dovrei concentrarmi un po' di più non so se sono capace noi usiamo cinque ottavi per anni abbiamo usato cinque ottavi non è qualcosa da farci vedere così capiamo anche noi cosa vuol dire cinque ottavi cinque terzi quindici dodicesimi no adesso qui no strano è tutto qui in ordine tutto in ordine la pompa l'ho data la pompa da 14 uguale alla cinque ottavi l'ho data la settimana scorsa a un un ragazzo portatore di handicap che ha un triciclo cana dove si chiamano quelle macchine così e lui non riesce a frenare col freno dietro e usiamo una pompa grossa sul manubrio e allora hanno fatto un'applicazione gli ho detto prova questa pompa qui quindi l'ho prestata a lui adesso non c'è qui non sai se torna se non torna non me ne frega anche se non torna vabbè comunque detto questo la mia sei cilindri la prima sei cilindri che ho avuto io avevo la cinque ottavi non frenava non frenava non riuscivi a frenare e allora gli ho messo una 14 mm uguale precisa con lo stesso attacco dello specchio e tutto però gli ho messo una 14 si allunga un po' la corsa ma quando pinzi riesce a modulare la frenata ma frena tantissimo di più in quegli anni uscivano le Suzuki TL1000 e le CBR900 le prime secondo me erano gli anni di che Cadalora era in onda potrebbe essere non mi ricordo io guardavo il tennis guardavo il tennis in quegli anni guardavo il Borg niente detto questo io avevo una pompa da 14 dell'FT500 l'ho messa sui miei 6 cilindri e funzionava perfetto adesso io lavoro con pompe piccole adesso da sempre ah scusa loro misero le pompe da 14 quei signori lì la Suzuki e la Honda rispetto a Yamaha X-Up di quel periodo gli equivalenti dell'IR1 quelle moto da sparo così usavo una pompa piccola da 14 e adesso per esempio sulla mia ondina 250 c'è una pizza è qua è in giro no è fuori non sai neanche dove ce l'è andiamo vediamola e poi almeno dopo ti togliamo il disturbo dov'è l'ondina 250 scusa qui è così non sa neanche dove ha le moto dov'è l'ondina 250 è questa qua ma noi non ci fai vedere la pompa ci fai vedere c'è una pompa allora questa qui è da 11 questa qui è di un SH300 la pompa la pinza è una 4 pistoncini questa senti non è lunga tutt'altro nonostante sia da 11 non è lunga è come il tossico la siringa del tossico tu riesci a spingerla se tu prendi quella di cavalli non riesci a spingere non puoi modulare la pressione questa è fisica è una questione di torchio adesso io non me lo ricordo l'ho studiato pure dovrei chiedere a Fran hai studiato il tossico il tossico è studiato il modo di stare lontano esatto e grazie alla moto anche in quel periodo stai lontano dai casini sì con la passione che ho avuto quindi pompe piccole pinze grosse tubi buoni moto che frenino che girino e sospensiono e che siano equilibrate equilibrate belle da guidare questa è un'altra storia quindi va bene magari la trattiamo la prossima volta ok tu studia sei andato bene non so se ben registrato o no non so se avevamo acceso i microfoni però hai visto che eri preoccupato si è un belicaronio e per lì eri preoccupato invece noi ti veniamo a romper le palle ok a me piacerebbe mi è sempre piaciuto insegnare la meccanica a noi piace imparare qualcosa io sono tabula rasa per cui preparati fai dei copioni ti prepari ci vieni qua e sì andiamo sul camper facendo delle robe lì ma c'è Benten sopra c'è? Benten c'è sopra è uguale Benten è il camper di Benten è uguale bellissimo beh ti dico questa cosa dimmela Paolino è un mio è un mio carissimo amico è pilota d'aerei meccanico d'aerei e poi adesso meccanico di moto a Roma siamo proprio amici è venuto al nord a trovarmi è entrato dentro nel camper ha visto il casino che c'era nel camper e mi ha detto Ciccio è come la tua officina ci hai messo anche la turca c'hai la turca dietro ci vuole però anzi la prossima volta lo vediamo adesso anche la turca ciao Ciccio e questa è così ciao lavora ci vediamo la prossima settimana senti un po' non lo so io Franco dimmi la verità se io sono un coglione lo so devo darvi il microfono no sta registrando io voglio che tu finisci questa frase adesso no io tu sei Ciccio basta diventi solo il cuore allora adesso te lo rifaccio scrivete voi se vogliamo Ciccio me lo scrivete se non lo volete io vado avanti lo stesso perché lui è un tesoro io adesso ti dico una cosa vera io poi forse non si potrà dire io sulla moto ci ho rischiato la vita veramente ho avuto un incidente te lo faccio risentire anche no grazie mi è venuta la nausea quando hai sentito il buco lì sono stato operato d'urgenza subito ero in coma mi sono salvato e sono qua a raccontarla in mezzo a questo casino mi è venuta l'epilessia mi hanno curato ho avuto la fortuna di essere curato da un medico da un medico capace che la prima volta che mi vide mi disse che mestiere fai faccio il meccanico di moto e lui mi ha detto se fossimo in Germania se io fossi un medico serio ti dovrei tirare la patente in Germania ti insegnerebbero un altro lavoro io l'ho guardato e volevo uscire e lui mi ha detto ma siccome mi sembra di capire che te lo voglia no io non ho detto che ritiravano ma vedi ritiravano la patente sì ecco adesso mi sono qualche segno è rimasto questo che è il casino che mi confondo qualche volta non fa niente e alla fine mi ha detto ma se mi aiuti ti guarisco e lui mi ha guarito e ho lavorato tantissimo con loro con l'associazione per la lotta contro l'epilessia e compagnia bella e quindi adesso sto bene io non ti so dire se sarei un uomo migliore senza quella pastilla di te grafico che prendo oggi perché che cazzo ne sai se magari stavo meglio però mi basto così sono contento e sono contento di questa roba qua perché è una gioia e poi quando puoi insegnare anche a qualcuno come mi capita con i ragazzi che gli ingegneri che lavorano e Harald mio figlio mediano che lavorano un progetto ambiziosissimo che vengono in officina a fare ingegneria però non hanno mai visto un trapano si lanciano dentro come ed è bello questa è la però penso spero di essere cioè bisognerebbe che fossi in grado ecco tutto lì ti guarderai e poi me lo direi tu se ti piace noi ci siamo noi non noi siamo con te ok? no però potreste cazzo dimmi qualcosa cioè dimmi non devi fare così devi fare qualcosa ma tu parla che rompi i coglioni sto vecchio che è mamma mia pazzesco ciccio Cesco Corsi ormai siamo qua siamo dei tuoi preparati organizza moto smonta rottami non rottami fa le belle basta che ci insegni qualcosa ma la facciamo insieme questa qua? no facciamo fare a Claudia Schiffer ti mando chi vuoi che sia siamo qua siamo noi no ti dico che cazzo stai incasinando sempre di più Pascal io metterei ciao ciccio basta non pensare troppo e non mi cadere più dalla moto no 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 sei piccolino non puoi usare quella moto ma cazzo è una figata ma è un problema va bene lo so tu sai andare in moto la vuoi provare? saluta qua ciao ragazzi grazie di essere stati qua grazie di essere stati qui grazie di essere stati qui